Ciao a tutti, sto filmando veramente una cosa molto interessante, un formicaio pazzesco qua a Roma. Guardate le formiche che sono veramente un simbolo di operosità. Guardate veramente queste formiche, come stanno operando. Qualcuna trasportano delle cose, guardate questa come sta lavorando. Per trasportare, veramente molto interessante, sono qua a Roma, a Colle Mattia, in attesa di fare un congresso. E sto vedendo questa cosa qua, molto molto interessante. Cioè hanno un'operosità pazzesca queste formiche. Veramente pazzesco questo formicare, ma guardate come lavora, cioè è veramente pazzesco come stanno operando e come stanno lavorando queste formiche. Bene, veramente molto interessante questo, qui da National Geographic è tutto. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.